Dal passato al presente, tutto quello che è successo nei giorni scorsi, gli attentati terroristici alla Cerlievo, quelli dei due giorni successivi, le hanno smosso qualcosa? Io infatti mi hanno chiesto cosa prova ora e io dico perché è così la paura che possa ripetersi quello che è successo. Mi sembra che gli uomini dalla storia non abbiano imparato niente, quando io ho studiato si diceva storia magistra vite e io dico che non è vero niente perché l'uomo ha se stesso come maestro, ognuno fa la sua esperienza e non si appoggia all'esperienza degli altri e e quindi questo che è successo tra l'altro nel ristorante o nel negozio cashier, nelle scuole, beh io sempre ho paura che possa risuccedere perché non è mica impossibile. Perché il male è banale e quindi... E quindi... però ora sono grande e forse capisco anche perché mentre era piccola dicevo ma cosa succede, cosa ho fatto, ma perché così... ora so che ragione è solo nel cuore dell'uomo insomma, che sa essere eroico ma sa anche essere diabolico. Come si può spiegare? Io dico quando ho sentito quel tedesco che ha detto io non sono pentito perché io ho ubbidito agli ordini, ma dico gli ordini sono importanti però fino a un certo punto devo cercare di vedere cosa mi ordinano di fare, certe cose hanno voglia di dirmi ma io non le faccio insomma non posso maltrattare un altro essere umano. E quindi l'insegnamento ai giovani, ascoltare, capire e pensare con la propria testa. Eh sì, quello... quando ho insegnato anche la scuola media, lì se avevo la prima ora, il primo quarto d'ora facevo portare un giornale quotidiano che avevano in casa e cercavamo dai titoli quelli che erano gli articoli uguali in quotidiani diversi e facevo loro vedere come la stessa cosa può essere raccontata in modo diverso e quindi uno non può bere quello che gli viene dato e basta, deve ragionarci sopra. Io non so quanti l'hanno seguito dopo, io spero anche uno solo, tutto fa insomma. Però proprio di recente è stato bello, glielo dico perché mi è piaciuto molto, un ex alunno mi ha detto perché lei in classe non era autoritaria, era autorevole e mi è sembrato importante questo, no? che questa autorevolezza fosse poi voluta anche da rispetto perché io ho rispettato i miei ragazzi e loro mi hanno ricambiata e questo vale per tutta l'umanità, insomma bisogna rispettare gli altri. Due anni fa quando sono stato ad Auschwitz una giovane trentenne a ritorno ha scritto ho visto cose orribili, incredibili, domani mi aspetta un'altra prova importante trovare le parole giuste per raccontarla a mio nipote. Lei ha ai figli, non so se nipote, ha avuto mai il coraggio di raccontare qualcosa? No, però siccome ho scritto questo che ho vissuto ho dato a ciascuno un librettino quindi loro se lo sono guardato, però non hanno mai avuto il coraggio di parlarne. L'ho scritto perché mi fu invitata a farlo, perché dopo queste varie testimonianze perché io sono a giro continuamente a farle, mi è stato detto ma perché non le scrivi? Io non penso a scrivere, ci devo pensare sopra, a meditare. E una notte, perché io dormo poco, pensavo, ma quante persone della mia famiglia non hanno tomba il loro nome non c'è da nessuna parte. E' come se non fossero vissuti, sono scomparsi, no? E questo mi ha indotto a scriverlo, in maniera che, per esempio, lo zio Aaron, lo zio Perloff il padre di Silvio, quello che è morto a Bergenwelsen, era con mio padre e mio papà ha raccontato che nel loro trasferimento da Ravensbrück, loro sono andati a Sachsenhausen, e lo zio Aaron è caduto e non riusciva a rialzarsi, erano magri tutti quanti, esprimiti, e un tedesco li ha sparato e il suo corpo è rimasto là, perché è un altro che non è stato sepolto. Quante persone della famiglia ha perso? Dunque, lo zio Aaron, la zia Carola, Silvio, Robi, poi a Praga, senza andare in campo di concentramento, c'era una sorella della mia mamma, Susata, con marito e due figli. Quando siamo tornati lei li ha cercati e il paese dove stavano gli hanno detto che li hanno buttati dalla finestra. Sono morti così, quindi neanche di loro c'è una tomba. e quindi tutte queste persone sono sparite, come se non fossero esistite, questo non mi sembra giusto. Ecco perché ho scritto, insomma, la mia testimonianza c'è anche per iscritto. Allora 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 Allora